Adesso facciamo una confinta di essere un concetto di farmi fibra Facciamo finta di essere un concetto di rap in generale Allora, dobbiamo fare così? Poi anche 4 di lavaggio per provare a salgare Di non salire Brava 1, 2, 3 I'm trying to hear the show I'm trying to hear the show I'm trying to hear the show Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.